Il processo sul naufragio del traghetto Norman Atlantic è l'unico a Bari che si celebra da remoto e che quindi, nonostante le limitazioni imposte dal recente provvedimento che ha disposto il rinvio di tutte le udienze senza detenuti, va avanti, con tutte le sue oltre 60 parti costituite. Ieri sulla piattaforma Teams, con i giudici collegati da un'aula del Pala Giustizia di Via Dioguardi, erano presenti da remoto i PM e i circa 60 avvocati, che rappresentano i 32 imputati e le quasi 80 parti civili. Nell'udienza di ieri è stata discussa l'ammissione delle liste dei testimoni, consulenti e passeggeri superstiti e il Tribunale ha sciolto la riserva rigettandola sulla richiesta di revoca dell'ordinanza che aveva escluso le società Visemar Trasporti, Visemar Navigazione e Cantieri Visentini, assistite dall'avvocato Filiberto Palumbo, come responsabili civili. Si tornerà adesso nell'aula virtuale del giudice Marco Guida il 28 aprile. Nell'aufragio avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014, dopo un ruogo scoppiato a bordo, morirono 31 persone e altri 64 passeggeri rimassero feriti. Ai 32 imputati, l'armatore Carlo Visentini, due legali rappresentanti della greca Annek Lines, il comandante Argilio Giacomazzi e 26 membri dell'equipaggio. I PM Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano contestano a vario titolo i reati di cooperazione colposa in naufragio, omicidio colposo e lesioni colpose plurime. Oltre a numerose violazioni sulla sicurezza e al codice della navigazione, si sono costituiti parte civile anche i Ministeri dell'Ambiente, della Difesa e degli Interni, le associazioni Codacons, Conf Consumatori e Anmil e circa 70 familiari di vittime superstiti.